Musica Buongiorno Rossanina, oggi parleremo di come fare una pausa pranzo gustosa ma anche adeguata e bilanciata da un punto di vista nutrizionale. Cosa ci prepari? Allora io oggi avevo pensato a una pasta, una pasta semplice saltata con delle zucchine e del pomodoro che saltiamo in padella in modo che si aromatizzino velocemente e poi appena si saranno cotti diamo un pizzico di sale iodato ma solo un pizzico perché comunque le zucchine sono già belle e aromatiche. Mi raccomando mai esagerare col sale e solo sale iodato. E comunque se anche le zucchine rimangono croccanti e comunque non perdono la loro forza e consistenza sono comunque molto gustose e hanno piacevolezza in bocca. Questo per la pausa pranzo è un ottimo piatto perché unisce i carboidrati, mi raccomando una porzione di pasta non deve mai superare gli 80 grammi, alle verdure e agli ortaggi cioè ai pomodori. Naturalmente se a pausa pranzo si mangia la pasta, a casa per cena è opportuno avere un piatto proteico quale carne e pesce. Questo piatto può essere anche accompagnato poi da un'altra verdura crudo cotta e da una porzione di frutta. Qua abbiamo messo giusto un goccio di olio estraveggio d'oliva in cottura, quindi andiamo all'impiattamento. Poi d'estate una bella pasta con le verdure è sempre molto gradevole. E ecco qua, un girino appena di olio a crudo e la nostra pasta è pronta. È bellissimo e anche buonissimo. Qualche altra proposta per la pausa pranzo? Allora in pausa pranzo possiamo saltare al lasciare perdere il primo e passare al secondo. Un secondo leggero sicuramente, sempre perché in pausa pranzo non ci possiamo permettere di appesantirci eccessivamente. In questo caso si tratta di pezzetti di filetto di nasello serviti all'interno di un barattolo con delle verdure, in questo caso sono verdure estive, ma vanno benissimo anche le verdure invernali, del cavolfiore, della zucca che comunque conferiscono un aroma assai gradevole, erbe aromatiche perché sono quelle che poi aiutano a sprigionare profumo, il tutto chiuso all'interno in questo caso di un vasetto di vetro, ma si potrebbe fare benissimo anche all'interno di un cartoccio, un cartoccio di carta forno per chi serve una pausa pranzo veloce, pratica e magari anche un po' meno impegnativa. In questo caso solo un goccino di sale, ma poco o niente perché comunque il prodotto è aromatico e niente di olio, l'olio verrà messo a fine cottura. Perché questo è un piatto assolutamente adeguato per la pausa pranzo, è a base di proteine del pesce, accompagnato da verdure e da ortaggi, per cui anche questo accompagnato da una verdura preferibilmente cruda rappresenta un'ottima alternativa. Naturalmente la cena di coloro che hanno un piatto della pausa pranzo a base di proteine potrà essere benissimo un piatto di pasta o di riso, perché infatti bisogna dire che da un punto di vista nutrizionale nessun alimento, nessun ingrediente, nessun piatto è assolutamente vietato o è buono, ma tutto fa parte naturalmente della dieta. Una persona sana che fa un'attività fisica lieve, moderata, come può essere andare in palestra due volte a settimana, dovrebbe mangiare 2.000 calorie al giorno, 55% da carboidrati prevalentemente integrali, non esagerando con gli zuccheri semplici aggiunti, un 12-13% di proteine e il resto d'acidi grassi prevalentemente quelli buoni dell'olio d'oliva e del pesce. Un'ulteriore alternativa per chi invece non ha tanto tempo in pausa pranzo? Allora, per chi non ha tempo in pausa pranzo abbiamo anche l'alternativa del panino, che in questo caso è un panino integrale e questo è un panino molto semplice, molto pratico, è un panino con della bresaola, delle melanzane grigliate e del parmigiano reggiano in scaglie. Per fare le scaglie ho usato semplicemente un pela patate, quindi la cosa più semplice, perché col coltello delle volte vengono alte, delle volte vengono basse, col pela patate io vado veloce, la cosa più semplice. Le melanzane le ho grigliate, ovviamente senza nessun tipo di grasso, ma poi alla fine le ho spennellate con l'olio extravergine in cui avevo conservato i pomodorini secchi. Non ho messo sale, perché comunque la bresaola è già salata, il parmigiano reggiano e comunque il formaggio che possiamo mettere sopra è comunque già salato, e quindi niente sale, un po' di basilico all'interno per dare qualche di freschezza, e questo qua è una pausa pranzo sicuramente molto veloce, rapida, golosa, gustosa, e che fa anche bene alla salute, insomma, e non si piazza nello stomaco. Esatto, perché il panino è un'ottima alternativa per la pausa pranzo, non deve essere grande, perché mi raccomando sempre non superare gli 80 grammi di porzione di pane o pasta, è comodo da portare, può essere mangiato velocemente, magari non tutti i giorni, ma una volta ogni tanto sicuramente mantenendo quando è necessario la catena del freddo, in questo caso non ce n'è bisogno, perché sono tutte cose che si mantengono, sicuramente si mantengono qualche ora a temperatura ambiente senza rischi di natura microbiologica, però è un'ottima alternativa. Invece per chi volesse completare le pause pranzo di prima con una seconda verdura e con una frutta? Allora, una seconda verdura io avrei pensato a una cosa che in realtà con un ortaggio, come dicevi giustamente tu, che è un pomodorino gratinato, in questo caso è pronto per essere messo in forno, è un pomodoro che è stato scavato all'interno della propria acqua di vegetazione per facilitare il tempo di cottura, perché altrimenti richiederebbe tempi molto lunghi, e sopra c'è stato messo un misto di pangrattato e formaggio, poco formaggio, però quello giusto che serve per dare quella sapidità che permette di evitare di utilizzare di nuovo il sale. E poi alla fine, quando è pronto, un niente gli ultimi 5 minuti di cottura, un niente di erbe aromatiche, se poi qualcuno volesse anche un'acciughina messa insieme al pangrattato, c'è un so perché. Il valore nutrizionale dei pomodori, in generale degli ortaggi, è noto a tutti. Sarebbe necessario e consigliabile mischiare i colori, perché ogni colore è una vitamina diversa. Inoltre, in questo piatto, il sale è stato sostituito da spezie, e questo è un ottimo consiglio che si può dare, perché si può insaporire un piatto anche usando pochissimo o per niente sale. E per quello che riguarda la frutta, visto che mi avevi chiesto anche quella, io qua in frigorifero ho preparato una confezione di macedonia. Una macedonia molto semplice, una macedonia che vede l'inizio della primavera, quindi vede mele, kiwi, un po' di arancia. Qua abbiamo messo del timo limone, perché comunque dà uno sprint in più, che ben si mescola al profumo di lime, che è stato dato spruzzando un po' di lime. E anche qui zucchero, poco e niente, perché comunque ci sono gli zuccheri della frutta. Esatto, bravissima, la frutta è ricca di fruttosio, uno zucchero che già possiede, per cui non c'è bisogno di aggiungerlo. Limone o le erbe aromatiche sono un ottimo completamento da un punto di vista, immagino sia gastronomico e anche nutrizionale. E anche qui per la frutta mischiare più possibili i colori, per lo stesso motivo di prima. Quando si mischiano i colori, si mischiano le vitamine di più gruppi. Mi sembra anche questa veramente buona. Ottimo, grazie. Allora, Rossanina, ho seguito attentamente tutti i tuoi piatti e devo dire che sono molto aderenti al modello mediterraneo e sono felice per questo. Complimenti perché hai rispettato i canoni proprio del modello della dieta mediterranea. Sono stati rispettati anche i nutrienti, diciamo, durante la preparazione e la cottura e soprattutto hai rispettato anche i cosiddetti canoni dell'alternanza, quindi hai dato anche delle alternative ai piatti che hai preparato. Sono state considerate anche delle regole assolute, come quello di consumare poco sale, ma io dato, cucinare con pochi grassi, rispettando quindi, ripeto, anche l'aspetto organolettico dell'alimento e soprattutto, diciamo, i piatti sono poco elaborati e utilizzato molte spezie e l'olio extravergine d'oliva nelle giuste quantità. Il risultato finale potrebbe essere quello di suggerire, quindi, un ottimo consumo di frutta e verdura e soprattutto considerando nella pausa pranzo anche l'aspetto conviviale degli alimenti, mangiando in allegria ma con attenzione e rispettando poi anche l'attività fisica che ognuno di noi fa quando decide di assumere un menù o l'altro. Grazie per la visione!